dai leone su sta ancora dormendo leone buongiorno a tutti è proprio buongiorno perché all'alba di questa giornata oddio le le frasche stiamo per partire sono fuori con leo stiamo facendo fare l'ultimo giretto e poi dopo si parte finalmente io ho il colore del non lo so di quella macchina che è la sono grigia ho preso il caffè sperando di essere leggermente attiva visto che dico dicono che dovrei guidare e adesso poi posiziono leone in macchina andiamo a prelevare mio fratello in stazione piano leone e poi dopo si sembra di che sono nella savana e poi dopo andiamo si parte le ultime parte la super moto le ultime pipì di leone prima di entrare in macchina si leone c'è una lattina non lo so prendila prima di entrare in macchina e andare in super depressione leone come vedete molto convinto di andare in macchina vai vai leone su dai sali ho preparato ho sistemato tutto ho lasciato lì la borsa perché lui di solito si mette anche dentro alle volte qui c'è la cintura di sicurezza per leone che dopo gliela metto come quella che vi dicevo guardate si infila lì e poi lo allacci come se avesse il guinzaglio e poi la sua solita l'insuolino di iron man che evitiamo di sporcare la macchina anche se la macchina è abbastanza sporca adesso prendiamo leo e vediamo cosa ne pinza di tutto ciò dove è andato soprattutto ciao amore aspetta dai che devi salire sull'altra un altro dato vieni amore sali su dai dai con tanta voglia non è molto vedete come è molto intelligente oh sì mamma hai preparato queste cose allora si parte amore andiamo a prendere Giuseppe andiamo in stazione a prendere Giuseppe dai che poi tra un paio d'ore ci fermiamo fai ancora qualche pipì e poi andiamo da mena dove mena mena dove dove mena amore dai che si parte su ok cintura di sicurezza per leone lui adesso si accovaccia e si incastra tutto nella cintura amore tu sei pronto non ti incastrare ma guardalo spetta amore spetta sei pronto leone e la sua depressione come vedete ho la mia sciarpa questa qui che gliela metto a lui perché sente il mio profumo sa che tutto tranquillo che la macchina non gli riserverà brutti problemi e poi soprattutto deve stare comodo eccoci qua mi tolgo la giacca perché io già tengo caldo sono agite perché devo guidi questo è il mio Pinocchio che naturalmente sta davanti alle balle leone è dietro adesso metto via la giacca prendiamo l'acqua la mettiamo qui e voilà il telefono è giallino finalmente tutto il resto ormai non conta un po di burro cacao che fa sempre la sua porca figura la mia borsa la metto dietro perché mio fratello dopo deve stare comodo lui tutto comodino allora la metto qui fazzoletti radio tutto sistemato ragazzi mi faccio vedere leone dove sei mori ciao mori ciao che si parte dai ok attivi prelevo mio fratello e partiamo ciao eccoci qui che facciamo la prima pausa sono passato due ore dalla partenza sono più o meno le dieci meno un quarto leone sta facendo il suo giretto è stato molto bravo non ha detto niente ha dormito fino ad ora si gira abbastanza tranquillamente quindi speriamo di arrivare prima possibile leone lascia la palla allora 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 allora